Questa sera presentiamo Resistere, voci e volti dalle aree interne ed è un saggio che raccoglie gli articoli di approfondimento che ho scritto per Officina dei giornalisti sul tema delle aree interne, le buone pratiche e storie, insomma esperienze che raccontano come si vive nelle aree interne ma anche le buone opportunità che ci sono per far rinascere questi territori. È un libro che nasce da un percorso molto lungo perché gli articoli sono stati pubblicati nell'arco di circa due anni e poi c'è stata la decisione di intraprendere questo percorso e raccoglierli in questo volume che vuole essere proprio un omaggio anche a chi ha deciso di restare in questi territori, di creare anche delle opportunità ma anche dei buoni esempi per le aree più marginali del paese.